Ragazzi iniziamo il secondo video sull'area picnic Allora ragazzi quello che voi sapete e quello che voi non sapete è che sull'area picnic esistono vari posti in cui riprendersi e videarsi Quindi come le cose vanno male o vanno bene a noi non ci interessano Allora per prima cosa dobbiamo trovare qualcuno che sappia fare qualcosa del genere Guardate sono proprio io, sono Anthony Conga, sto sull'area picnic e sto facendo i video per intervistarmi in modo speciale Ragazzi lo dico perché qualcosa potrebbe andare male Ma anche bene perché noi sull'area picnic facciamo un video sull'area picnic Quindi noi sull'area picnic facciamo questo video per essere concreti Ma per sapere che nonostante tutti siano autorizzati a guardare i nostri video Ma poi quello che più ci interessa noi sull'area picnic possiamo comportarci come si pare Ragazzi anche se lo ammetto alcune volte alcuni video sull'area picnic Sono stati un po' schifosi Ma ora non più Risolviamo questo problema Scopriamo cos'è Che cos'è Che porta sfortuna sull'area picnic Non sappiamo noi Le cose vanno girando da destra a sinistra Avanti indietro e non sappiamo dove E quindi io che sono un comico Faccio la fine di un comico che poi alla fine si butta nel pozzo per fare brutta fine E poi non è colpa mia Si brutta lui nel pozzo Non sono io Ragazzi Allora se ero uno scienziato Se ero uno scienziato Allora lo scienziato si buttava nel pozzo e mi buttavo pure io nel pozzo Per far capire che se lo scienziato si buttava nel pozzo A questo punto come se lo scienziato si è negato mi annegava pure io Ragazzi sciolla sti moschigli davanti alla telecamera La telecamera non è una cosa da ammirare per bene Dovete sapere che comunque noi il video lo stiamo facendo Per essere famosi e per diventare dei fan sull'area picnic Allora noi scopriamo vari oggetti e varie conquistazioni Perché manneggia i moschigli Oggi la telecamera se la vogliono mangiare Sappiamo cosa fare? No Non sappiamo cosa fare Perché le cose comunque vanno male per noi e per tutti Allora noi creiamo un video dove potremo essere registrati E comunque noi indichiamo tutto quello che sia Perché le cose vanno bene o male che sia Sull'area picnic verrò intervistato E comunque chi cazzo ride? Ma per piacere sono quelle signorine che stanno ridendo Ragazzi l'unica cosa che sappiamo della vita in gennaia Allora non cerchiamo di disturbare le persone che dormono E i cani che dormono Per dargli fastidio Ok